Giancarlo Frascarelli, una produzione cinematografica interamente girata a Civitavecchia. Quanto è importante per la città di Civitavecchia in termini anche di visibilità? Innanzitutto il nome di Civitavecchia, la nostra città, è stata scelta per le sue bellezze. È importante perché si sta cercando di snellire la burocrazia e chiaramente avvicinare sempre più queste compagnie cinematografiche a investire, a intervenire perché ci interessa anche la macchina lavoro, i tanti giovani che partecipano in tutto questo insieme ringraziando in questa situazione Nicoletta Morici e Piero Pacchiarotti che da anni si occupano di questa materia così importante questa attività che nella nostra città sta crescendo, noi che cosa facciamo? Cercheremo di, con il nuovo regolamento, come ha detto il Presidente del Consiglio, come ha detto il Vice Sindaco tutto quello che è lo sviluppo, la prospettiva che in qualità di Vice Sindaco e Assessore sta portando avanti che non aspetta a me, ci sarà un'altra occasione, però noi cercheremo, come nel mio piccolo, di snellire quella burocrazia che allontana, che è noiosa e che fa male in questo caso e in altri aspetti alla nostra città e alla nostra Italia. Con Antonio Tozzi e Dario Albertini parliamo allora di questo film, si chiama Anima Bella interamente girato a Civitavecchia, intanto come mai la scelta proprio di Civitavecchia? La scelta di Civitavecchia forse è una domanda più per Dario perché già ha girato qui molti dei suoi lavori e questo che, come dicevi prima, probabilmente è il settimo lavoro locale che fai qui è stato interamente girato a Civitavecchia per 39 giorni di riprese, per due mesi di riprese ci siamo fermati per la pausa natalizia, c'è stato anche un mese di preparazione a novembre e ricordiamo che il film è prodotto da Angelo Barbagallo di BB Film insieme a Phoenix Entertainment, Elsie North Film e il sostegno del MIBAC cioè del Ministero dei Beni Culturali. Faccio una domanda al regista, insomma ci racconta un po' di che cosa tratta questo film anche in generale? Ma il film racconta la storia di una ragazza che vive in campagna e che per un problema del papà è costretta a andare in città e qui a Civitavecchia siamo riusciti a trovare tutte e due le due bolle del film quindi la parte più bucolica e l'altra quella più urbana questa è in sostanza una sinossi molto, molto... Una logline Una logline Era rimasto affascinato da Civitavecchia? Ma non la conosco da tanto, tutti i miei lavori, insomma parte qualcosina, le ho tutti fatti qui perché mi trovo bene, perché è una città che mi permette insomma mi dà la possibilità di raccontare quello che è in questa fase insomma ho bisogno di raccontare quindi mi trovo molto bene con le persone con appunto chi ci ha permesso di realizzare il film Ultimissima domanda, si sa già quando potrebbe uscire? Ma diciamo entro la fine dell'anno Eccoci, questo sicuramente e ovviamente è un'uscita cinematografica di sala Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti